Nel casting per la panchina del Biceglie alla fine la spuntata Giovanni Buccaro, il 49enne ex difensore del Foggia di Zeman e subentrato a Sergio Lacava dopo la separazione consensuale col club dovuta alla mancanza del patentino UEFA e ha superato la concorrenza di Aldo Papagni, Nevi Orlandi e Salvatore Campilongo. Idee chiare in conferenza per Buccaro, ultima esperienza in panchina da ottobre 2019 a gennaio 2020, proprio con quella Sicula Leonzio che aveva superato nei play-out DC in Erazzurri. Le mie forti motivazioni e poi perché comunque Biceglie negli ultimi anni è stata una piazza ed è una piazza importante nel paneramo calcistico quindi queste due cose hanno fatto sì che facessero accettare con grande entusiasmo questa nuova avventura. A presentare il nuovo allenatore tutto lo stato maggiore della dirigenza bicegliese è pronta ad affrontare il campionato DC dopo il ripescaggio tra le novità in organigramma e Covito D'Addato nominato vicepresidente su scelta del patron Vincenzo Rakanati. Abbiamo parlato, chiacchierato con varie figure e lui ha colpito le persone che ha incontrato dalla nostra società ma soprattutto ha convinto il presidente. Lo ha definito così il presidente, un uomo con molta grinta quindi quella che serve adesso a noi. Lavoro con i giovani e capacità di recuperare con la grinta il gap di preparazione rispetto alle avversarie con la stagione del Biceglie che potrebbe partire tra il 4 e il 7 ottobre. Buccaro si dice in sintonia sul mercato con il DS Squatto e non teme il poco tempo a disposizione. Il nostro obiettivo principale è quello di lavorare con i giovani perché dobbiamo valorizzare più giovani possibili però siamo qui per questo e quindi siamo in sintonia su tutto. È normale che tra virgolette in questo momento il Biceglie è un po' in cantiere aperto. Presentazione e primo allenamento tutto in poche ore per l'ex allenatore di Pomigliano, Manfredonia, Avellino, Sorrento, Savoia, Arezzo, Monopoli e appunto Sicula Leonzio verso un girone C complicato ma da affrontare senza paura. Ci sono piazze importantissime anche di livello superiore alla Serie C quindi ci andremo a confrontare con degli squadroni, sappiamo che comunque è molto difficile però daremo del filo da torcere un po' a tutti.